Continua la settimana di orientamento per gli studenti del polo scientifico tecnologico Ricofermi di Sulmona. Alla vigilia del flash mob letterario di domani, che chiuderà ufficialmente il salone dell'orientamento, stamane sono confluite nell'alamagna del liceo Ricofermi le Università di Chieti, L'Aquila, Siena e Bologna, che è stata presente virtualmente attraverso la gentile concessione del materiale informativo. Un momento alto di integrazione culturale e di orientamento, specialmente per tutti gli alunni che intenderanno nel futuro proseguire gli studi e entrare così nel complesso mondo dell'università. Il polo della D'Annunzio, diviso nei due campus di Chieti e di Pescara, è presente con più di 50 corsi di laurea tra triennali e magistrali. E sono presenti, direi, un po' tutte le aree, appunto si va dall'architettura, l'economia, la farmacia, CTF, lingue, mediazione linguistica, medicina e chirurgia, l'ho già accennata, psicologia, scienze dell'educazione, filosofia, le aree delle scienze matematiche, fisiche e naturali, le aree delle scienze sociali, le aree delle scienze manageriali. Quindi è un'offerta formativa molto ricca. Sono Francesco, Francesco Leonetti, insegno matematica all'Università dell'Aquila. Un consiglio per chi deve scegliere, vuole scegliere un'università, fate quello che vi dice il cuore, quello che sentite dentro, perché è molto importante fare una cosa che vi piace. Io sono Katie, sono una dottoranda dell'Università degli Studi dell'Aquila, sono nata e cresciuta all'Aquila e ringrazio questa università che ha creduto e crede in me e che mi ha portato a fare delle scelte bellissime, stando puntando sempre di più sull'internazionalizzazione. Sono Luisa Giallonardo, appunto sono un'ex alunna del liceo scientifico Enrico Fermi, sono molto felice di essere qui in una veste diversa rispetto a quella degli anni passati e sono qui per presentare i corsi di economia, i corsi di laurea in economia che consiglio agli studenti del liceo scientifico di intraprendere come ho fatto io perché si tratta di una metodologia di studio molto varia e in questo modo si riescono ad abbracciare diversi tipi di studio e si possono avere degli sbocchi occupazionali molto variegati. Facciamo una sintesi di questa presentazione con la docente referente del progetto di orientamento che ricordiamo è aperto a tutta la Valle Peligna, è il primo salone di orientamento in uscita per il centro Abruzzo, non solo per il polo Enrico Fermi. Questo momento di orientamento allora serve a presentare tutta l'offerta formativa dei vari Atenei e delle singole facoltà, in particolare abbiamo docenti che possono riferire la loro esperienza didattica su settori umanistici, medici, biologici, scientifici eccetera. È un momento di crescita e di opportunità che aiuterà i ragazzi in una scelta intelligente dell'università. Una parola su questa giornata importante dell'orientamento per il polo e per la Valle Peligna. Noi abbiamo selezionato le università che partecipano oggi a questo salone sulla base delle classifiche census di Repubblica per la qualità della didattica e sulla base di quelli che sono i canali di maggiore affluenza. Sono presenti quindi le università della regione che accolgono il maggior numero dei nostri studenti e quelle università a livello nazionale che rappresentano l'eccellenza. Pensare che delle università per la prima volta si regano nei licei e negli istituti tecnici di una zona non facilmente accessibile come la nostra Valle Peligna è molto importante e molto piacevole anche per noi e ci dà molta soddisfazione vedere che le università si avvicinano sempre di più al mondo dei liceali e dei ragazzi ancora adolescenti. Domani come dicevamo si chiuderà presso il chiostro del complesso monumentale dell'Annunziata il ciclo di eventi di formazione e orientamento in entrata e in uscita da tempo promossi dall'Istituto. Sono gli stessi ragazzi ad aver scelto come scenografia il più importante monumento cittadino comunica il dirigente scolastico Massimo Di Paolo proprio perché vogliono inviare un messaggio chiaro alle generazioni adulte. Vogliono rivalutare il centro storico poiché hanno particolarmente a cuore le sorti della nostra città del nostro territorio e della nostra comunità. Il flash mob letterario promosso dalla fondazione Caffeina Cultura Hollus di Viterbo insieme all'Accademia della Crusca comincerà alle ore 12 quanto i tanti studenti che vi prenderanno parte e l'invito ovviamente esteso ai tanti alunni delle scuole cittadine saranno invitati a riempire le ormai pochissime librerie di Sulmona per acquistare un qualsiasi testo e ricordare e ricordarsi che il paese deve ripartire dal suo vero petrolio, la cultura fondamentale per la crescita individuale e collettiva.